E buongiorno ragazzi sono il mio Gesù, un nuovo video Bene ragazzi, oggi siamo su Far Cry 4 Ragazzi, so, lo so, Far Cry 4 è abbastanza vecchiotto come gioco Almeno il 20% di voi o il 90% l'avrà giocato Ma quel 10% che non ci ha giocato Per quel 10% voglio fare una serie Allora ragazzi, ovviamente dopo questo episodio fatemi sapere cosa ve ne pare E avvisatemi se volete altri episodi Inoltre voglio dire che Far Cry 4 Io l'ho finito appena era uscito diciamo alla Xbox Invece adesso, tipo questo mese, l'ho ricomprato E ragazzi, voi non potete capire l'Alzheimer Non capisco, cioè non mi ricordo più niente Allora ragazzi, anche se magari mi ricordo qualcosa Possiamo tranquillamente divertirci assieme Questo è il mio primo accesso Col profilo Tutti voi avrete giocato Ma che cos'è? Regola del cursore? Facchè l'immagine dell'elepante? Va bene così Allora ragazzi, io forse non parlerò troppo Fatemi sapere se vi piace questa serie Ah già è figlio mio Ho un ultimo desiderio Riportami all'ascemano E iniziamo così Signor Gale Sono Jeff Peterson della pasciata statunitense di Panna La chiamo riguardo alla sua richiesta di un uomo Guarda guarda guarda, già si presenta una figliata a sto gioco Eh ragazzi, infatti si gioca uscita il 2014 Cioè a distanza di 4 anni Passaporto Scusate ragazzi, mi dispiace di non aver fatto questa serie prima Io ce l'avevo nel 2014 Però con l'Xbox non avevo proprio un bel... Respira Cioè il canale l'avevo appena aperto Vai parlare lei Facevo episodi di parte 3 Non ce l'avevo avuto subito a parlare Quattro Passaporti, ti algeri Ma povera è la scimmia Cazzafatto di male Ragazzi se non mi sbaglio Queste guardie Erano le guardie Di un boss Di cui non mi ricordo più il nome Come cacchio Non lo so, era Roman Ah no, Pagan, Pagan Ragazzi Si chiamava Pagan Se non mi sbaglio Ecco qua Ecco la Madonna No, come ragazzi Si non mi sbaglio Ehi Porca croca Corri, 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 corri Ragazzi ma la scimmia è morta Ponella Uno è stato colpito Guardate quello Oh Questo viene Ah e Pagan Pagan mille ragazzi Sono sicuro Di aver detto Fermate Il bus Si Fermate Il bus Non Sparate Al bus Ah E' bruttissimo Ci tengo molto Le scelte le signe Fermate Sparate Fermate Sparate A te sembrano parole uguali Abbiamo perso il controllo No, che cosa hai detto scusa Abbiamo sbagliato Perso il controllo Odio quando si perde il controllo No No Perfetto ragazzi Iniziamoci ad ammettere Mi sono pure sporcato le scarpe Sta pure a pensare le scarpe Ma guarda il lato positivo Quale Qualcosa di buono l'hai fatto Riconoscerei ovunque Quegli occhi Mi dispiace tanto Non doveva succedere Tutto Beh Tutto questo C'è una festa Che vi aspetta Ma ne sono perso il tuo nome E' un tuo amico Un tipo silenzioso Mi piace Se dai da mangiare alle scimmie Quelle Si tirano la merda addosso Me lo tieni un attimo Un secondo solo Voglio Scattare Una foto Quello a destra siamo noi Oddio che bella faccia Non ti preoccupare ragazzo Presto sarà acqua passata E partiremo per la nostra avventura Perché io Ho annullato gli impegni per te Tu Ehi Eh sì Oh è su Dai togli Oddio Aspettate Siamo a mettere in casa L'ospite d'onore Paul il padrone di casa L'amico di Ajai Che non riconosco proprio E poi ci sono io Pagamina Tu Non ti ricordi proprio di me Tua madre non ti ha detto mai niente Di me niente Di niente Ok Vedi questa Col sorriso Sei tu Sono io Però quelle sono scimmie Non è Non mi riconosco più ormai Tua madre Tua madre Sì Lei Mi conosceva Come nessun altro al mondo Sai Ma ancora sono i scenari Che schifo Quanti ricordi Ultima volta che ho visto i schifari Era più di dieci anni fa Dunque Quando ti ha preso in spalla Ed è scappata negli Stati Uniti Io mi sono Sentito responsabile Poi ho capito Che non avevo colpa E' la colpa Del sentiero Quei cazzo di terroristi Rovinano tutto Questi cazzo di terroristi Rovinano tutto Non ti hanno mai detto Che non si usa il telefono A tavola Fammi vedere Dammi quel telefono E' cazzo Ora non li controlliamo più I telefoni Sono qui con Già e Galla Questa è bella Aiuto No Poverello I terroristi Vero Dunque Ti prego Resta qui Goditi I guanto Non ti muovere Io torno Subito Yuma Dobbiamo parlare Che cazzo è? Eh infatti Ma sono torture cinese Con una forchetta Allora Lo sa Oddio Oh cazzo Faccio un passo indietro Voglio accertarmi Che tu sappia Esattamente Cosa voglio Ah Dimmi Tu lo sai Perché Sei qui Sono qui Il sentiero d'oro Un terrorista Un cattivo Io sono coi vuoti Quindi Ho 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 Cagato in mano Io sono Saban Sono col sentiero d'oro Sentiero d'oro? Siamo amici Conoscevo tuo padre Siamo qui per salvarti Figlio di Moan Cosa è successo ad Arpanna? Sei la nostra priorità Dobbiamo portarti via Sano e salvo A qualunque costo Darpan capirebbe Resta vicino Ma come lo conosci? Merda Siamo qui Oh merda La porta Presto C'hanno scoperto Già e quando le porte si aprono Tieni giù la testa E corri fino al furgone Muoviti più in fretta che puoi Capito? Sì Capito Uno Due Tre Beee Eh vabbè Aiuto Aiaiaiaia Aiaiaia Aiaiaia Forcerò in salvo Vai Mi compro il merda Merda Ma Eh vabbè Eh vabbè Oddio Addirittura la gente esplode Siamo al sicuro? Forse no Grazie A destra Ma c'è l'automira Ma io non la voglio l'automira Non mi trovo Con l'automira non mi trovo Oh demonio No Oh porco d'inci No Ma noi siamo immortali Brutto Grazie Akira Sono Sabal Ok ascoltami Guardati intorno Dovresti vedere una torre Devi arrivare fino a lì Mi sto muovendo adesso per prenderla Vado alla torre Ok Ce la puoi fare Akai Ah Ah si Tipo per credere Tipo il Tutti quanti occhi aperti E beh Beh cosa Oddio E' spawnato a cazzo Una bestia di satana Vabbè così a cazzo No 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 Cerchiamo sempre di essere stelte Ok non siamo stelte Dio Dio Santissimo Muori per la patria Muori per la patria Vabbè me ne ammazzo la tigre E mo so Cazzi Oddio 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 mi so cagato in mano Salta 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 Tutti i crocchi di morto Ai 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 Ah ma se no l'arma Figlio di trota Struzzo Oddio è morto Scuoia Ma già il ragazzo mio sei preso Ti da fastidio se ti chiamo Fantastico Sei così bravo ad ascoltare Senti Non me la sono presa Per i one ton Lo so che possono non piacere Sappi che ho fatto giustiziare Lo chef per la sua incompetenza O era la sua famiglia In ogni caso La prossima volta Ti prometto qualcosa di meglio È l'ultima volta Che faccio rapire uno chef Della tv Oh Come arriva Ci mancava poco Ci stavo rimanendo secco ragazzi Ah Porco C Che cazzo Che cazzo E' un'ora riconoscerti, figlio di Moan Ah, stai da qui Ah, ma c'è pure la nera Ah, un po' come forma Ma già, ce l'hai fatta Perché mi state aiutando? Sei il figlio di Moan Forse non lo sai Ma non mi ha un grosso fisico Soprattutto per il sentiero d'oro Quelli dell'armata mi stanno ancora cercando Pagan Min non si fermerà davanti a nulla Merda Alcuni degli uomini di Pagan ci hanno trovato Saranno di un uomo in un altro Ci tocca combattere Ma che so se sto Questa se non mi sbaglia una torre rato Che non mi ha mai mai Pezzo di merda Incappucciato della nonna Scivola Su quella vita Che cazzo è? Oh 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 Frana di neve Hai la pellacciatura fratello È una cosa positiva no? No Ah il prorogo Come avete fatto a trovarmi? Abbiamo visto l'elicottero di Pagan Non si spinge mai così a sud E volevo capire perché È andata bene Eravamo in zona Quando ci ha scritto Darpan Beh Eccoci qua Benvenuto a Banapur Sede del sentiero d'oro Lui chi è? Dov'è Darpan? Non ce l'ha fatta Lui è Ajaigala Figlio di Mohan Fammi capire Darpan è morto E mi hai portato questo qui? Io non c'entro con questa storia Sto solo cercando Lakshmana Siamo nel bel mezzo di una guerra Non abbiamo tempo per i turisti Cosa volevi che facessi? Che lo lasciassi lì? Vabbè affanculo Vabbè quella stronza Amita è un po' per malosa Ci parlo io Si chiama Amita Per Lakshmana Dal suono si direbbe un tempio Un santuario Ma se è così è a nord Il nord è territorio nemico E non ci possiamo andare Per ora Rifletti un po' Torna quando sei frutto Si Bene ragazzi Io direi Ah guardate ragazzi Non voglio avere niente a che fare Con Pagan Min e i suoi soldati Voglio essere lasciato in pace Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E se volete anche un mi piace Ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi E un saluto Da M Iscrivetevi